Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, è stato minacciato di morte su Facebook. Il responsabile è stato individuato e denunciato alle autorità dal primo cittadino della città del Magentino. Si tratta di un giovane ragazzo, non residente a Corbetta, ma in un comune limitrofo. Gli agenti della polizia locale hanno già notificato la notizia di reato per violenza contro pubblico ufficiale. Il gesto, tenuto riservato da Ballarini per favorire le attività di identificazione dell'uomo, è accaduto alla vigilia di Natale. Quando il responsabile ha scritto privatamente al profilo istituzionale del sindaco le minacce di violenza fisica. Si tratta dell'ennesima minaccia di violenza o di morte che ho ricevuto negli ultimi mesi, ha commentato Ballarini. Ho denunciato alla polizia locale, che ringrazio con tutto il cuore perché, nonostante le festività, è riuscita a individuare il responsabile del gesto. Diciamo che sono abituato, ha continuato Ballarini, anche se a questo genere di cose non ci si abitua mai. Sono amareggiato, certo, ma resto qui e continuo a lavorare per i cittadini e con i cittadini, alla luce del sole come ho sempre fatto. Sappiamo che col tempo, avendo sempre portato avanti cause anche scomode, ci siamo fatti dei nemici. Ad aprile Ballarini aveva ricevuto pesanti minacce, sempre da utenti del web, dopo aver risposto al video contro la polizia locale di Corbetta, diventato virale, fatto da un imprenditore di Casorezzo che, in pieno lockdown, dopo essersi recato dal suo paese all'esse lunga di Corbetta, si lamentava per essere stato multato. In quel caso vennero aggiunti anche auguri di morte ai familiari. Anche nel giugno del 2020 Ballarini fu minacciato, gli venne infatti recapitate una busta contenente una lettera in cui si leggeva «Sono gli ultimi giorni della tua vita, hai poco da ridere», minacce che arrivarono a seguito di un tentativo di sabotaggio dell'auto personale del comandante della polizia locale. Per questo, il movente dei responsabili, almeno di alcune di queste minacce, è probabilmente da ricercare nell'avversione per la campagna impostata al rispetto delle regole, soprattutto nel comando di polizia locale, dove Ballarini ha licenziato due furbetti del cartellino e allontanato diversi dipendenti che non svolgevano appieno le mansioni loro affidate. Grazie